Profezia, vicinanza, memoria. Sono le tre parole chiave che Papa Francesco ha lasciato ai 5.000 giovani consacrati che stanno partecipando ad un convegno internazionale nell'anno della vita consacrata. In Aula Paolo VI il Pontefice, prima di rispondere a tre domande incentrate sulle tre parole, ha rivolto un pensiero ai nostri martiri di oggi, i martiri dell'Iraq e della Siria. Alcuni giorni fa, in piazza, un sacerdote iracheno si è avvicinato e mi ha dato una croce piccola. Se questa è la croce che aveva in mano il sacerdote che è stato sgozzato per non rinegare Gesù Cristo. Questa croce la porto qui. Alla luce di queste testimonianze, dei nostri martiri di oggi, che sono di più dei martiri dei primi secoli, e anche dei martiri di vostra terra irachiana e siriana. Parlando di profezia, Papa Francesco ha sottolineato che nella vita consacrata è permettersi di sognare, come faceva Santa Teresa di Gesù Bambino, e dare testimonianza con un cuore che brucia di amore per Cristo. Con la vicinanza, poi, si rende concreta la maternalità della Chiesa, la vicinanza ai veri problemi della gente. Memoria, infine, è tornare alle fonti nei momenti di tentazione e ricordare lo stupore che abbiamo sentito quando il Signore ci ha guardato.